Ce la farò, giuro che alla fine delle domande riuscirò a capire questa cosa. Ciao Francesca Romana Macri, Cusano Media Group. Volevo chiederti, da cantante, quanta radio ascolti? Anche perché questa sera voterà la giuria delle radio e soprattutto, come pensi che reagiranno le radio al tuo pezzo? Allora, visto che votano, ascolto solo la radio tutti i giorni. No, comunque sì, devo dire, io, come dicevo appunto prima, io ho avuto sempre un bel rapporto con la radio a livello più personale perché la radio è stata comunque il primo mezzo che mi ha fatto veramente conoscere le canzoni e gli artisti e io credo che sia importante, sai, anche in questo periodo storico dove comunque è tutto molto digitale, comunque tutto streaming, io credo che la radio abbia un valore veramente importante che è quello di celebrare gli artisti molte volte, no? Ed è per questo che quando tu sei, almeno io quando sento la mia canzone alla radio dico, ok, allora il pezzo sta piacendo, no? È un po' quello il mio parametro, quindi questo. Grazie. Grazie a te. Ciao.